Musica Busti, tutori e protesi di arto personalizzati Ortopedia e sanitaria Lolato Atreviso e Montebelluna Lolato, soluzioni per star bene Bentrovati al Maeteo La nuova settimana, quella che ci condurrà all'inizio ufficiale dell'autunno inizia con veloci passaggi perturbati forieri di episodi di instabilità Vediamo insieme il dettaglio Sul Veneto nella giornata di lunedì sarà piuttosto soleggiato al mattino a seguire temporali sui rilievi possibili entro fine giornata fin verso le pianure limitrofe Le temperature saranno stazionarie minime tra 13 e 20 gradi massime tra 24 e 30 gradi Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia Anche in questo caso avremo addensamenti con possibili rovesci sulle Alpi in estensione nel corso delle ore alle zone circostanti più soleggiato invece altrove Temperature minime sui 15-20 gradi massime sui 25-28 gradi Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige dove avremo bel tempo al mattino ma con probabili piogge dal pomeriggio e soprattutto alla sera Temperature minime intorno ai 17-18 gradi massime oscillanti tra i 27 e i 30 gradi all'incirca Dal Meteo per ora è tutto vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia Entra nel mondo l'olato Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita Centro del Piede con servizi di podologia Laboratorio per la produzione di plantarie e calzature su misura Grazie a tutti